Il Potenza è ad un passo dalla salvezza. Il successo esterno con il punteggio di 2-0 sul campo della Turris regala tre punti pesantissimi alla squadra di Arleo che dopo un campionato difficile e sofferto vede sempre più vicino il traguardo della permanenza nella terza serie professionistica. Prestazione da incorniciare in terra campana per i rosso-blu che riscattano la coccente delusione del pari subito in extremis contro il Catania. Match che entra subito nel vivo al terzo. Corallini pericolosi con il mancino di Barutti che non inquadra di poco lo specchio della porta. Al diciottesimo risponde il Potenza con un altro mancino, quello di Nigro. La mira però è da dimenticare. Campania ancora in avanti al ventiduesimo con il colpo di testa di esempio sugli sviluppi di un corner. Palla che termina sull'esterno della rete. Al trentunesimo ci prova Sandri a scuotere i Lucani con un sinistro a giro dei 15 metri. Solo brividi per Perina. Nel finale di frazione ci prova Coccia dalla stessa Mattonella. Palla alta sopra la traversa. Squadre a riposo sul punteggio di 0-0. Ad inizio ripresa la squadra di Arleo entra con maggiore cattiveria e al cinquantunesimo trova il vantaggio. Cross da destra di Costa Ferreira e incornata vincente di Romero che non lascia scampo a Perina. 1-0 per il Potenza e festa sotto il settore ospiti. I Lucani sulle ali dell'entusiasmo prendono in mano la sfida. Al cinquantatreesimo ancora Romero pericoloso di testa. Sulla respinta Guaita viene chiuso dalla difesa di casa. Al sessantesimo è già tempo di raddoppio per i Lucani. Tiro cross di Nigro. Traversa piena e palla sui piedi di Guaita che a porta sguarnita non può sbagliare. 2-0 per il Potenza e reazione Turris che tarda ad arrivare con i Lucani che gestiscono il doppio vantaggio senza particolari sofferenze sino al tripice fischio. Fa festa la squadra di Arleo alla quale manca un solo punto per l'aritmetica salvezza che potrebbe comunque già arrivare sabato prossimo al Viviani nel match contro la Juve Stabia.